Allora, la mia volta insieme, c'è stato un programma mio che si chiamava Varietà, mi pare, poi si è riunita tutta la famiglia Garrisi, ce l'avete, so che c'è. Non mi hanno parlato, o bastamente, con tante cose che abbiamo fatto insieme, qualcosa mi è sfuggita, fatta e sfuggita. La contestazione non è sfuggita a me, perché vi ricordo, era la famiglia Garrisi, c'era la mamma Yolanda che saluto, mamma Yolanda, la grande Yolanda, la mamma di Albano, poi c'è la papà Carmelo, Don Carmelo. È troppo per te, è troppo. E ci riunimmo insieme, io faccio parte della famiglia, quante volte sono stato da voi a Cellino, quante volte ho dormito a Cellino, quante volte mi hai sfamato. Muore, un ottimo così muore. Io so esattamente il momento di cui tu stai parlando. Che sono a gusto. Mi spira anche con il mio capè. Incredibile. Chihuahua conto tigre. Non so se metterlo su YouTube o su YouPorn. Non parlava, io non volevo parlare, adesso invece io ti parla di male. No. Grazie a tutti.